Chi è? Ma è... Sì, c'è la mani qua? Sì, c'è qui? E' eccoci, sono qui, come sono qui, ma non mi è sofferto, mi è sofferto, e che è più lì. Pensare che San Nicola, e il cui altruismo ha moltiplicato leggende su leggende, quest'anno, per la prima volta nella sua storia, non vedrà il suo corteo. Ma anche ritrovarsi a pensare che questa magnifica rappresentazione di cuore e di fede diventa sempre più merce per il turismo di massa. E ritrovare brividi, davvero, a ricordare immagini rimaste indelebili nella mente di un ragazzino. Vedo le saracinesche dei negozi che si abbassano a metà, le donne si segnano, gli uomini si tolgono il cappello, passa il corteo funebre di uno sconosciuto. Grazie.